Un nuovo piano commerciale che possa svilupparsi attraverso una serie fase concertativa tra l'amministrazione comunale e le associazioni di categoria. Un grande impegno comune per affrontare la crisi commerciale che attanaglia il paese e anche la città. A sottolinearlo è il presidente di Fenimprese di Caltanissetta, Michele Giarratano, che interviene sulla questione avanzando una serie di proposte operative per il commercio e l'artigianato. Da un progetto di investimenti di medio periodo in project financing a un mercatino itinerante domenicale con le specialità del territorio, dagli incentivi per l'apertura o il rinnovo dei negozi a una riduzione o esenzione della Tarsu per le attività produttive, commerciali e di servizi che dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi indirizzati ad un'accertata minore produzione di rifiuti. Le nostre proposte sono delle proposte che vogliono essere da puntule, da stimolo alle piccole e medie imprese in particolare, ma anche alle amministrazioni. Io faccio un esempio che potrebbe calzare un po' per tutti, perché la burocrazia oramai è diventata una pastoia insopportabile per la piccola e media impresa. A noi serve che l'impresa faccia l'impresa, così come l'amministrazione faccia l'amministrazione. Le imprese non devono andare presso la pubblica amministrazione, andare a perdere tempo, se così vogliamo dire, per andare a sbrigare le loro faccente, perché si parla tanto di imprese in un giorno, di burocrazia snella, di burocrazia semplificata, ma poi alla fine i burocrati fanno di tutto e di più affinché le imprese non prendano e non facciano quello che dovrebbero fare, cioè fare impresa. Noi vorremmo che le amministrazioni, di concerto chiaramente con le organizzazioni datoriali, si mettano intorno a un tavolo e cercano di creare quelle sinergie capaci di sviluppare all'interno della propria città, di sviluppare economia. Lo speriamo tanto che l'amministrazione ci dia una risposta, anche se in passato, sia con l'amministrazione Ruvolo che con l'amministrazione Modafferi, non a caso abbiamo citato le due città, Caltanissetta e San Cataldo, che sono le città un po' più rappresentative, anche come numero di abitanti e di persone. Noi vorremmo che queste città non diventassero i dormitori della provincia di Caltanissetta, ma che abbiano quantomeno un ruolo anche di tipo economico all'interno della provincia.